Ciao a tutti patatini e patatine benvenuti in questo nuovo video da come avete letto dal titolo finalmente un video giveaway mi è appena passato la mosca davanti perfetto e oggi farò questo video perché un'azienda mi ha contattata l'azienda si chiama T-Ride è un'azienda di Firenze che produce scarpe italianissime strastra fatte benissimo e sono rimasta soddisfattissima e la spedizione è stata veramente super super veloce ci ha messo praticamente due giorni un paio sarà per una di voi tra poco vi spiegherò tutte le... tutte due cosine per poter partecipare insomma per poter partecipare alla vincita di questo paio di scarpe quello che ho scelto io dal sito diciamo che ci sono vari stili su questo sito qua io ho voluto scegliere un paio di sneakers perché ho le Air Jordan e le Air Jordan sono molto simili come sono fatte da queste che ho scelto io mi piacciono un sacco però le Air Jordan sono molto più sportive meno fashion ecco vestono meno... sono meno fashion rispetto a queste e queste qui mi sono piaciute subito perché hanno delle applicazioni che rispecchiano praticamente i miei gusti ecco le scarpe in questione di cui vi sto parlando sono queste qui la vincitrice appunto potrà sceglierle o bianche o nere io vi consiglio bianche perché le scarpe bianche sono... cioè subito visibili sono belle vestono già tantissimo le scarpe bianche di suo le nere passano più inosservate però se volete essere inosservate non c'è niente di male il nero comunque è sempre più portabile io le ho volute prendere bianche perché non lo so ho la fissa delle scarpe bianche delle sneakers bianche queste qui in particolare sono alte belle belle alte come vedete all'interno sono leggermente rialzate quindi il tallone non poggia su questa parte ma si poggia più o meno da questa parte qui non pensavo neanche fossero così devo essere sincera dal sito già si nota anche che sono belle però quando sono arrivata a casa sono rimasta sbalorditissima a parte che la qualità in sé delle scarpe mi ha stupita sono veramente fatte bene curate in ogni minimo particolare tutte super imbottite anche in questa parte qui in questa parte qui e poi hanno queste applicazioni con la finta zip che ovviamente non si tira giù ma è solo una finta zip e tutta la zip che riprende la scarpa che richiama il resto della scarpa e come potete vedere ci sono delle borchettine con dei fuori qua e poi i teschettini adesso cercherò di farvele vedere il meglio possibile che veramente ho adorato fin da subito quando ho visto la scarpa sul sito e se mi vedete le mani leggermente arancioni rispetto al braccio e la faccia e il collo più arancioni è perché ho fatto una bronzatura spray mi ha regalato una mia amica questa bronzatura spray allo zucchero aloe e qualcos'altro che poi ve ne parlerò più avanti e purtroppo su di me ha preso troppo 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 colore mi sono già lavata e non ha scaricato più di tanto quindi poi vabbè ve ne parlerò comunque torniamo sulle scarpe che sono la star principale di questo video e poi qua ci sono i lacci normalissimi tutte bianche sono davvero comodissime anche questo non me lo aspettavo perché le scarpe comunque con un minimo di plato interno o vai a fortuna o hai un piede particolarmente semplice cioè che non hai problemi ecco io ho il tallone e la pianta del piede che tendono a soffrire in base alle scarpe insomma non lo so ce li ho un po' problematici e questa scarpa invece mi ha sorpreso tantissimo perché è davvero tanto tanto comoda infatti volevo fare complimenti direttamente tramite questo video all'azienda perché sia per la serietà sia per la velocità della spedizione per la cura per tutto davvero con stracomplimenti perché mi piacciono davvero tanto queste scarpe non l'avrei mai detto devo essere sincera perché comunque finché non provo non ci credo ecco quindi grazie per questa scoperta e grazie per il regalo e il regalo che fate anche a una delle mie scritte queste sono le scarpe sì storte queste sono le scarpe oltre le scarpe che erano chiuse all'interno della propria scatola dentro un'altra scatola più grande mi hanno mandato un sacco di omaggi come questa busta con la scritta tu rai appunto il nome del brand e questi tre cappelli questi tre cappelli che sono sempre con la scritta tu rai di diversi colori anche questi dei gadget stra stra carini tutti i loro adesivi sempre con la scritta tu rai del brand il nome il simbolo e poi questa bellissima matriosca di legno con la scritta tu rai e questa l'ho voluta mettere qui appena sotto la mela del mio apple niente questo era tutto partiamo col vero e proprio giveaway per partecipare al giveaway dovete mettere mi piace alla pagina facebook di tu rai vi allegro qui nel video il link e quello cliccabile nell'info box quindi per poter mettere direttamente mi piace alla pagina farò durare questo giveaway sette giorni quindi dalla data di caricamento di questo dopo sette giorni allo scadere della mezzanotte il giveaway sarà chiuso tutti i commenti che verranno successivi ai sette giorni non saranno contati farò l'estrazione tramite suadeo.ch e scriverò all'inizio di questo video come scumetto e nell'info box il nome della vincitrice il paio in omaggio per la vincitrice saranno disponibili i numeri dal 36 al 41 sia bianco che nero la foto di quelle nere ve le metto qui perché quelle bianche le avete già viste che sono le mie se invece voleste acquistare qualsiasi paio di scarpe presenti nel sito tu rai che vi linko sempre qua sotto nell'info box c'è un codice sconto di 10 euro il codice sconto è questo qui come vedete c'è il numerino qua in basso il codice da inserire al check out o altrimenti ve lo scrivo appunto qui sopra e anche qui sotto nell'info box chiunque guarda questo video ha diritto a questo codice sconto di 10 euro quindi qualunque persona può usare questo codice direttamente sul loro sito l'unica cosa è che questo codice sconto sarà valido una settimana quindi proprio come la durata di questo giveaway vi ricordo che lo shop in questione spedisce 24-48 ore come vi ho detto a me è arrivato in due giorni meno di due giorni quindi è una cosa pazzesca veramente velocissimo in tutta Italia questo è tutto spero vi abbia fatto piacere questo video spero vi abbia fatto piacere il fatto di potervi regalare un paio di scarpe cosa che non era mai caduta sul mio canale vi avevo sempre regalato pennelli o trucchi e questa volta o cappotti è successo l'anno scorso questa volta scarpe quindi mi ha fatto l'unplane proprio io vi mando un grosso bacio in bocca al lupo per il giveaway mi raccomando commentate i commenti sono illimitati vi prego almeno di scriverli sensati così almeno sarà anche carino poter dare un senso a questo giveaway io ringrazio di nuovo Chiura e l'azienda e ci vediamo al prossimo video che sarà subito dopo questo se non in contemporanea perché purtroppo ci sarà un altro video dove annuncerò il perché di questa carrellata di video un bacione ciao patatini e patatini in bocca al lupo per il giveaway non vi